Maggio, mese di appendice post stagione regolare nei vari campionati dilettantistici, con alle viste il secondo weekend pronto per il decollo. Quarta serie con i play-off pronti a certificare le due finaliste che emergeranno da altrettanti derby. Al De Simone i ragazzi di Spinelli proveranno a guadagnarsi la finalissima contro la Cireale di Marra, che ha chiuso la stagione increscendo. A Vibbo, invece, derby Calabro tra i ragazzi di Boucher e l'LFA Reggio Calabria, col doppio risultato a favore dei bianco-rosso-blu. Adrenalina che sale in eccellenza per il Paternò, che alle 15 al Bozzi di Firenze proverà a guadagnarsi la Coppa e il salto in Serie D, Solbiatese permettendo. Cresce l'attesa spasmodica anche in promozione con il Gioiosa, che continua a coltivare il sogno eccellenza e avrà da superare l'ultimo ostacolo sulla sua strada, chiamato Real Avola, al Valentino Mazzola di San Cataldo proprio domenica. Prima categoria che si dividerà tra play-off nel girone B con la sfida tutta nebbroidea tra il Sinagra, padrone di casa, e la futura. Chi vincerà avrà la possibilità di centrare la promozione battendo settimana prossima la Margheritese. Non solo play-off, ma anche semifinali di Coppa Sicilia con lo scontro d'andata dell'ambiente stadium tra il Riviera Nord e il Monforte. Ritorno settimana prossima, altra semifinale tra Santa Venerina e Alcamo. A chiudere, atto finale anche in terza categoria con la finalissima che sancirà la Prodo in seconda categoria di una delle due squadre che farà compagnia alla già promossa scuola calcio San Benedetto. A contendersi il salto al Pippo Giacobbe, proprio il Rocca 2023 e il Furnari. Siamo agli sgoccioli calcistici, ma anche in questo secondo weekend di maggio le emozioni non la titeranno.